Ultimi test in casa della Nico Basket in vista dell'inizio della nuova stagione. La rinnovata formazione del presidente Massimo Nerini, che parteciperà al suo secondo campionato consecutivo di Serie A2, esordirà sabato 28 settembre al Palapertini di Ponte Bugianese contro l'Ice School di Roma. Presidente, manca ormai meno di due settimane all'inizio della nuova stagione, è il secondo campionato di Serie A2 consecutivo. Siete pronti? Sì, abbastanza, si stanno allenando bene, le ragazze sono un gruppo abbastanza compatto, le bimbe giovani si stanno inserendo molto bene, abbiamo fatto due amichevoli che abbiamo perso tutti e due ma siamo andati benino, sono un po' imballati sulle gambe ma saremo pronti per il 28. L'obiettivo rimane quello della permanenza in categoria? Sì, sì, l'obiettivo è di arrivare noni, che siamo salvi, tranquilli, poi se arriveremo ottavi, settimi per fare un turno di playoff, ben venga, se farà una partita o due in più, poi vedremo. Cinque conferme e quattro nuovi arrivi nell'organico della formazione Rosanero che avrà anche alcune giovani interessanti a disposizione. Un team guidato da un tecnico tanto giovane quanto esperto, Luca Andreoli, reduce da tre anni in A1 come capo allenatore di Vigarano. A meno di due settimane dell'inizio del campionato a che punto siamo? Siamo un pelo a ciaccate, però stiamo giocando delle buone partite, buone amichevole, ci stiamo allenando con un'intensità medio giusta, dovremmo cercare di alzare un po' l'intensità in questo ultimo periodo, però è un buon gruppo, lavora bene e credo ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Contento per ora? Sì, diciamo che possiamo fare qualcosa di più, però anche i minutaggi che stiamo usando in partita non sono quelli reali e quindi più di così a livello di intensità non posso chiedere ai ragazzi. Grazie. 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 Grazie.